40 squadre e più di 200 cestisti con buona rappresentanza di Serie A2 e Serie B a sfidarsi in 195 partite. Sul mitico playground del Cristoressi consumata l'appassionata 21esima edizione del torneo Bacco Forever dedicato alla memoria del compianto Michele Bacchini. A laurearsi campione del trofeo 2023 la squadra dei Best Brow Team composta da Giona Sinatra, Matteo Ricci, Alessandro Panzieri, Matteo Longoni, Alessandro Ceccolini e Andrea Giampaoli. Best Brow che hanno battuto in finali Sex Pistols fra gli applausi anche di Daniel Hackett della Virtus Bologna che ha assistito dagli spalti. Per il Best Brow Team non solo il prestigio del trofeo ma anche la partecipazione alle finali nazionali Red Bull Italia alle quali è stato abbinato il torneo del Cristo Re. Finali che si terranno a Rimini il 29 luglio.